La Commissione Trasparenza del Comune di Salerno non ha lasciato che cadessero nel vuoto le parole all'allarme lanciati nella seduta dello scorso 30 settembre dall'ex consigliere comunale Augusto De Pascale. Delegato alla protezione civile e alla sicurezza nelle scuole, De Pascale aveva denunciato ai componenti della commissione presieduta dal consigliere comunale Antonio Cammarota una serie di falle nella rete di protezione civile anche alla luce di garantire maggiore sicurezza nella città invasa dai turisti per l'evento Lucida Artista. A rispondere punto per punto alle carenze è una dettagliata relazione dell'ingegner Sara Petrone dalla quale emerge con chiarezza un aspetto che è quello finanziario, cioè occorre definire le risorse economiche da impiegare per rispondere ai punti dove realmente si è accertata un'esigenza, aspetto questo sul quale si registra l'appello del presidente della commissione trasparenza. Il consigliere Petrone ha fatto un lavoro molto attento e ha individuato fondamentalmente tre focus. Uno, il problema delle scuole, secondo la dotazione dei mezzi, il terzo l'organizzazione dei dati. Per quanto riguarda i primi due problemi, le scuole e i mezzi c'è una carenza di fondi perché vi sono territori che hanno un rischio sismico più alto e che quindi vengono prima per quanto riguarda le provvidenze di fondi di questo tipo, per questi scopi. Allora su questo noi abbiamo proposto al sindaco di fare delle variazioni di bilancio e anticipare dove possibile, almeno per le spese più necessarie e urgenti, queste somme. Per quanto riguarda invece l'organizzazione a sistema di tutti i database c'è un problema strutturale di formazione proprio degli uffici del comune, per cui la proposta è quella di istituire una cabina di regia che metta in comunicazione banche dati pure esistenti. Credo che la commissione ha fatto un buon lavoro.